Sì, sono contento per aver segnato, finalmente sono riuscito a sbloccarmi dopo diversi mesi senza gol, ma soprattutto sono contento per la squadra che si è meritata questa vittoria. Avevi ricevuto tante critiche per il finale di gara della partita con lo Spezia, probabilmente anche tu a fine partita avevi capito di non aver dato il massimo, oggi invece hai giocato una grande gara e sei riuscito anche a timbrare il cartellino dei marcatori. Sì, con lo Spezia sono entrato bene, poi negli ultimi minuti ho perso dei palloni un po' subiti, ma non mi interessa di essere criticato e oggi ho dimostrato sul campo che ci sono anch'io. Tante cose belle si sono viste, a me è piaciuta molto l'azione del secondo gol, ce la vuoi raccontare? Sì, è stata un'azione bellissima, ho visto Stefano fuori al limite dell'area, io ho scaricato palla e mi sono buttato dentro, lui mi ha dato una palla magnifica, peccato per non aver fatto gol, ma meno male che c'era lì Mancuso e l'ho buttata dentro. Cosa cambia questa vittoria per il Pescara? È inutile negarlo, sono tre punti pesantissimi nella lotta salvezza, non è ancora fatta però questa vittoria vi dà una grande carica, soprattutto fa sì che la classifica da questa sera sia notevolmente migliorata. Sì, sicuramente questa vittoria è importantissima per noi, ci dà molta più sicurezza, ma ancora non è finita, vogliamo chiudere i conti e martedì ci dobbiamo preparare per una grande partita come quella di oggi. Manca ancora un po', il 19 maggio finisce il campionato, però possiamo provare, o meglio puoi provare tu a dare un voto, un giudizio a questa tua esperienza in maglia bianca azzurra, sei arrivato dall'Atalanta con tante belle aspettative, sei contento o quanto? Ma sicuramente ho iniziato nei migliori dei modi, segnando parecchio all'inizio, poi non ho più fatto gol, ho fatto anche un po' fatica durante il campionato, ma ci sta, sono giovane, oggi compio 19 anni, è la mia prima esperienza, ma sono abbastanza contento della mia esperienza qua. Chiedo anche a te quello che avevamo chiesto, anche dopo la partita con lo Spezia, a tuoi compagni di squadra, cosa è cambiato per voi? Tu sei giovanissimo con l'avvento di Pilonno sulla panchina del Pescara, perché obiettivamente si sta vedendo una squadra diversa rispetto a qualche settimana fa. Sì, sicuramente il mister è un mister di esperienza, è bravo anche con noi giovani, ci ha dato una mentalità importante per questa conclusione di campionato e lo stiamo ripagando con queste vittorie. Ti chiedo un'ultima cosa, prima di lasciarti ai colleghi, c'è una partita con il Cesena, è una partita tra due squadre che hanno vinto nell'ultimo turno, insomma, vincere significherebbe chiudere il discorso salvezza? Sì, sì. Quanta 48 in caso? Sì, sicuramente vogliamo vincere, dobbiamo vincere per finire salvi e concludere questo campionato. Oggi credo sia d'obbligo ringraziare questi tifosi che vi hanno seguito numerosi nella trasferta di Terni, era cambiata l'aria all'Adriatico già dalla gara con il Bari, è stato così anche con lo Spezia, oggi, soprattutto nel secondo tempo, si sentiva solo la curva nord dei liberati con i tifosi biancazzurri che alla fine siete andati a salutare e ringraziare. Sì, sicuramente siamo contenti del pubblico, soprattutto oggi, che ci ha dato grande forza e ci ha aiutato a vincere questa partita.